Nel pomeriggio di martedì a Barletta la polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato Pasquale Papeo, barlettano 41enne incensurato, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti della squadra investigativa del commissariato di Barletta, a seguito di un'attività info-investigativa, hanno effettuato un servizio di appostamento nel quartiere Sette Frati e in via Enrico De Nicola. Gli investigatori, dopo una lunga e paziente attività di osservazione, hanno individuato un uomo a bordo di un auto, un Audi A4, che si aggirava in quella zona con fare sospetto e lo hanno fermato e sottoposto ad un controllo di polizia. L'attività, estesa ad un box auto situato in quella via, nell'immediata disponibilità di Papeo, che era in possesso delle chiavi di accesso, ha consentito di rinvenire e sequestrare ben 15 pani di marijuana e due bustoni, pieni della stessa sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 30 chili, la cui commercializzazione avrebbe fruttato la cifra di circa 200.000 euro. Dopo gli accertamenti di rito, l'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Trani a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.